Siamo con Manuele Marchiani, regista della ceramica Globo, a termine di questo secondo allenamento congiunto contro Tuscania, qui a Piterbo. Allora, Marco, che partita è stata, che allenamento è stato? Un passo avanti o un passo indietro rispetto a Spoleto? Sicuramente un passo avanti, visto che a Spoleto comunque eravamo abbastanza impreparati, comunque sul chi va là, ogni pallone c'era poca intesa. Oggi si è visto qualcosa in più, qualche pallone, qualche intesa in più è venuta. Loro sono una bella squadra, quindi sono già rodati, mi sembra che vengono da due amichevoli, quindi sanno che c'è una bella intesa di squadra. Noi stiamo crescendo, ovviamente abbiamo i nostri cali, sia fisici che ancora di amalgama di squadra, però tutto sommato bene, c'è da lavorare e ovviamente abbiamo voglia e continueremo a lavorare così. Noi stiamo crescendo, ovviamente abbiamo i nostri cali,